e oggi vedremo proprio una riqualificazione con super bonus andando a vedere proprio i passi per arrivare appunto a questa riqualificazione. Sarà più che un webinar nel dettaglio, sarà una tavola rotonda come sapete, parleremo, cercheremo di confrontarci appunto su questi punti che abbiamo cercato di riassumere. Prima di cominciare voglio ricordarvi che potete porre delle domande, vi prego di utilizzare il tastino che trovate nella casella in basso della vostra barra degli strumenti che sono le due chat che sono domande risposte e così poi possiamo gestire in maniera più efficiente le domande, le domande alla fine della presentazione. Vi ricordo che il webinar di oggi, la tavola rotonda, è registrato e troverete poi la registrazione visibile sul nostro canale YouTube già a partire dai prossimi giorni. Quindi dopo queste comunicazioni di servizio iniziali, come vi dicevamo, grazie a Michele siamo riusciti a costruire proprio lavorando su un caso studio reale quelli che sono i passi per poter fare una riqualificazione con super bonus centodieci per cento. Vediamo ovviamente, Michele ha seguito tutta la parte di diciamo della riqualificazione insieme ai suoi colleghi, vedremo adesso tutti i passi. Prima di vedere appunto, prima di iniziare presentiamo quella che è l'oggetto della riqualificazione. L'oggetto della riqualificazione è una villetta schiera, vedete l'unità di testa di queste quattro villette a schiera, è un'abitazione su due livelli, quindi ovviamente una una casa indipendente, unifamiliare. L'anno di costruzione è eh del duemila ed è una superficie netta di circa centosette metri quadri ed è ubicata nella provincia eh di Mantua. Quella di oggi è una vera diciamo opportunità per tutti noi perché eh c'è da dire che Michele non è solo il progettista che sta seguendo insieme ai suoi colleghi la ristrutturazione ma è anche il proprietario di questa abitazione quindi ci darà eh entrambi i punti di vista con importanti informazioni utili anche per quanto riguarda quella che è la eh la cessione del credito che è uno dei passi che vedremo insieme. Eh allora iniziamo subito con il passo uno che è quello dell'accesso agli atti quindi la prima cosa da fare ovviamente quando si inizia questo processo è andare a verificare quella che è eh l'idoneità dell'edificio. Che cosa vuol dire? Andare a vedere la conformità urbanistica cioè andare a controllare che eh ci sia una corrispondenza tra lo stato di fatto e il titolo abitativo. La conformità paesaggistica qui vi abbiamo riportato il DPR trentuno del duemila e diciassette dove sono raccolte tutte quelle eh diciamo eh situazioni in cui eh bisogna eh adempiera del del ci sono degli adempiamenti e delle conformità paesaggistiche da da tenersi e poi infine la conformità catastale che è proprio la rispondenza tra lo stato di fatto e i dati catastali. Questi controlli ovviamente servono a verificare la regolarità eh diciamo del dell'edificio ed è molto importante perché attenzione che gli edifici che hanno degli abusi edilizi che non sono stati sanati sono esclusi dal super bonus centodieci quindi come primo passo è importantissimo. È ammessa una limitata tolleranza se ci sono delle non conformità ma è appunto ristretta al due per cento quindi superata questa non si può poi più incorrere a a diciamo vanno a decadere i benefici fiscali quindi il primo passo se ci sono degli abusi edilizi è proprio andarli a sanare. Infatti Michele se ci racconti un po' che cosa è successo eh su questa sulla tua abitazione? Sì allora nel caso in esame la precedente proprietaria prima di fare il rogito aveva già incaricato un tecnico per sistemare sanare alcune difformità che erano presenti come potete vedere nella tavola soprattutto il piano terra erano difformità molto contenute una tramezza che non era stata realizzata invece una che era stata realizzata che non era in progetto quindi il precedente tecnico si è occupato di tutto il rilievo dell'abitazione e ha presentato la pratica diciamola già sanatoria io quando ho acquistato l'immobile l'immobile era già sistemato chiaramente per eccesso di zelo se vogliamo io e i miei colleghi abbiamo comunque ripreso tutte le misure per un controllo necessario e abbiamo verificato che sia le misure che le superfici e i volumi ricadessero mentre la tolleranza chiaramente avendo appena fatto una sanatoria era già tutto in regola stiamo vedendo che nel 90 per cento dei casi degli edifici che stiamo analizzando questa situazione non c'è quindi nel 90 per cento dei casi anche se piccola ma una sanatoria è necessario farlo. Esatto come abbiamo visto è essenziale poi no per non diciamo a far sì che non decadano questi benefici quindi è un controllo ovviamente. È il primo controllo che andiamo a fare. Assolutamente quindi dopo la diciamo l'idoneità dell'immobile si va a verificare diciamo anche questa diciamo magari un po' banale però deve essere fatta l'idoneità del beneficiario perché sappiamo che ci sono alcune restrizioni anche su quello in particolare diciamo riferendoci su un unifamiliare bisogna verificare appunto che il proprio che ci sia diciamo che ci sia la pratica a carico del proprietario o comunque che ci sia un reale godimento del dell'immobile se nel caso di locatari il contratto appunto di locazione e fine può essere anche richiesto dai familiari appunto del possessore o appunto il detentore dell'immobile. Quindi diciamo questo è il primo passo essenziale. Secondo passo è quello dell'ape ante ora operamo cioè l'attestato di prestazione energetica per andare a valutare qual è lo stato di fatto dell'edificio. Qui anche qui lascio la parola a Michele che ci racconta un po' com'era l'edificio inizialmente. Allora partiamo da quello che è l'involucro quindi l'abitazione si presenta senza alcun tipo di isolamento esistente. Abbiamo un muro esterno da 33 centimetri, serramenti in legno già a doppio vetro ma chiaramente con una prestazione che potrebbe essere valutata intorno al 2,2 watt metro quadro kelvin. Dal punto di vista dei solai sono dei solai al piano primo verso sottotetto non isolati e anche il pavimento non risulta isolato. Quindi diciamo che tutto quello che è la componente dell'involucro non era isolata. Dal punto di vista impiantistico è un impianto molto semplice, una caldaia tradizionale con radiatori senza valvole termostatiche e c'era un condizionatore che tra l'altro non era neanche funzionante. Quindi una situazione molto semplice. Inserendo tutti i dati nel software di calcolo con legge nazionale come è stato ampiamente chiarito abbiamo riscontrato una classe di partenza in F. Quindi è uno dei casi che si presta molto bene per valutare il salto delle due classi energetiche. Esatto che comunque è impressionante questa cosa nonostante essendo stata costruita nel 2000 comunque la classe energetica diciamo non è il limite la G ma comunque è molto bassa. Ricordatevi tutti la classe perché poi tra poco faremo un giochino insieme. Ovviamente la peante opera come ci ha appunto descritto Michele è servito anche ovviamente per andare ad inquadrare diciamo anche questo essenziale quali potevano essere gli scenari di intervento perché ricordiamoci che ovviamente ci sono delle richieste per l'attuazione del super bonus. Quindi prima di andare a vedere quali sono gli scenari di intervento volevo ricordare una puntualizzazione mettiamola così che quando si parla di riqualificazione al momento tutti parliamo ed è giusto così che bisogna efficientare l'edificio infatti ci viene chiesto di garantire il salto di due classi energetiche ma ovviamente non dobbiamo dimenticarci che nel momento in cui si affrontano delle riqualificazioni importanti come quella che vedremo oggi uno degli obiettivi se non anche l'altro primario è quello anche di garantire il comfort all'interno delle edifici quindi tarare le soluzioni anche in questo senso. Non dimentichiamoci appunto che gli edifici sì sono fatti per consumare poco ma sono adibiti anche ad accogliere le persone al loro interno quindi il comfort è essenziale. Lascio di nuovo la parola a Michele che ci presenta diciamo le soluzioni dalle varie analisi quella finale. Sì, noi siamo partiti come il solito simulando una serie di scenari che comprendevano più o meno interventi di diverse tipologie dello stesso intervento. Partendo da quello che è l'involucro abbiamo subito ipotizzato di realizzare un cappotto esterno e di isolare quello che era il solaio. Inizialmente era stato valutato di isolare il solaio verso sottotetto con insufflaggio quindi dall'esterno però non erano presenti nessuna botola e abbiamo visto scoperchiando il manto di copertura con le tegole che la guaina era perfetta. Quindi andare a fare molti fori nella guaina per andare a insufflare il materiale fra i vari muricci che sostengono i tavelloni ci ha fatto propendere per un'altra strada è quella del placcaggio dall'interno. Questo ha comportato che per raggiungere il valore di trasmittanza richiesto dall'allegato E del decreto requisiti abbiamo scelto un materiale in poliuretano, una schiuma poliviso. Per mantenere lo stesso materiale poi abbiamo deciso di continuare sulla stessa strada anche con il cappotto quindi dal punto di vista dell'involucro l'intervento prevede appunto un placcaggio di tutti i solai che disperdono verso sottotetti, di quelle porzioni di solai pieno terra che disperdono verso diciamo esterno sottotetto come si può vedere dalla pianta precedente e anche di una stanza che ha un pavimento sul garage anche lì abbiamo fatto un placcaggio in modo da isolare tutte quelle che sono le componenti orizzontali eccetto il pavimento contro terra. Il cappotto abbiamo detto 14 centimetri di materiale schiuma poliso, serramenti abbiamo preso una scelta su un telaio in metallo con triplo vetro che garantisce un'ottima prestazione termica. Per quanto riguarda poi l'impianto abbiamo deciso di... Abbiamo aggiunto un impianto fotovoltaico da 3,9 kilowatt, la scelta della potenza è chiaramente un po' un po' sulle esigenze dell'abitazione un po' limitata da quella che era la copertura a disposizione. In più abbiamo optato per un accumulo fotovoltaico da 5 kilowattora, a livello invece proprio di impianto di riscaldamento abbiamo optato visto i fabbisogni molto contenuti parliamo di circa 5 kilowatt e mezzo in condizioni di progetto che qui per la nostra zona sono di meno 6 gradi esterni. Abbiamo optato quindi per una pompa di calore, aria acqua con accumulo da 500 litri di acqua tecnica, impianto radiante Zero Max, sistema di regolazione Smart Comfort 365. Tutta la parte di impianto è completamente nuova, quindi quello che era l'impianto esistente è stato completamente tralasciato e dismesso. Perfetto, la sostituzione. Ne approfitto per fare un piccolo approfondimento. Il decreto ministeriale del 26-6-2015 che vedete qui è quello che permette di derogare le altezze all'interno delle abitazioni. Quindi in questo caso è stato utilizzato da Michele nella progettazione per poter fare l'isolamento del solaio lato interno, ma ricordatevi che nel caso di applicazione appunto di sistema radiante, che non sia per esempio lo Zero Max, che non c'è un alzamento delle quote, potete utilizzare questa deroga se vi alzate per le quote per esempio di un pavimento radiante o anche per l'installazione di un impianto a soffitto. Quindi potete ovviamente eh derogare questi dieci centimetri per l'installazione. La stessa deroga è prevista anche dalla nostra legge regionale. Perfetto, quindi tutto tutto in linea. Allora, esatto, quindi praticamente l'approccio seguito da da Michele che poi ovviamente è quello consigliato è quello di andare a lavorare prima sulle parti passive eh dell'edificio, quindi sull'involucro andando a cercare di eh contenere quelle che sono le dispersioni verso verso l'esterno e quindi diminuire quello che chiede l'edificio, quindi il suo fabbisogno, che poi andrà coperto con le soluzioni attive che sono appunto gli impianti e questo permette questo approccio, questa metodologia di andare a dimensionare in maniera eh corretta gli impianti e le potenze da dare eh da dare all'edificio. Allora vi ricordavo prima di ricordarvi ricordavo di ricordarvi la classe del del dell'edificio che era in classe F. Vediamo adesso in classe post dopo dopo considerando questi interventi eh che che classe siamo arrivati. Allora qui abbiamo provato un piccolo sondaggio per eh giocare con voi dovreste vederlo. Allora vi chiediamo di compilare, adesso abbiamo circa trenta secondi, compilateci secondo voi in che classe siamo arrivati con queste soluzioni previste da da Michele. Eh dai. Quasi tutti bravi. Eh dai. Che classe E vuol dire che non si sono raggiunte le due il due classi di salto eh diciamo energie, le due classi. Classe C vuol dire che abbiamo raggiunto le due classi, classe A quattro eh sì A quattro vuol dire che abbiamo raggiunto il top possibile. Adesso termino il sondaggio, mi pare che abbiate votato quasi tutti. Bravi, un premio a tutti e effettivamente eh adesso chiudo i risultati con le soluzioni proposte da Michele sono riusciti ad arrivare in classe A quattro. Questo vuol dire che da l'analisi progettuale ci c'è ci sarà eh se non diciamo a queste percentuali ma molto diciamo simili un taglio delle emissioni della CO2 pari al novantatré per cento. Ovviamente poi questo è in funzione da come l'edificio verrà utilizzato però ovviamente un ottimo punto di partenza e eh diciamo qui possiamo anche eh diciamo cogliere la la volontà no di andare a proprio a riqualificare questi edifici per andare proprio ad influire sempre meno eh sull'ambiente con le emissioni di CO2 e i consumi e i consumi energetici. Ehm ovviamente essendo un'abitazione nuova cioè nel senso andando a vivere un'abitazione nuova avete anche eh sfruttato parte della ristrutturazione. Se ci vuoi anche raccontare. Sì esatto. Sì come si vede dal dalle due piante di piano terra abbiamo deciso di eh sfruttare intanto che facciamo l'intervento anche il bonus edilizia demolendo quello che era il bagno esistente che era collocato diciamo tra la cucina e un'altra stanza di sbrigo andando così a valorizzare di più la zona living la zona salotto e cucina allargandole e spostando il bagno in quella che era la prima di sbrigo. Queste chiaramente sono altre opere che verranno quantificate nell'accessione del credito ma al cinquanta per cento. Esatto. Come ci sono altre opere ad esempio la tinteggiatura della parete del garage che non rientra chiaramente nel 110 eccetera eccetera. Esatto quindi questa è una grossa diciamo opportunità proprio no? Per riqualificare non riqualificare non solo dal punto di vista energetico ma anche proprio strutturale le 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 abitazioni e vedremo più avanti poi con la gestione del credito come viene viene gestita poi lato lato banca. Lascio adesso la parola a Giuseppe che insieme a Michele ci racconteranno quella che è la soluzione tecnica proprio relativa alla parte impiantistica. Ok grazie Marta. Come diceva Marta chiaramente si è intervenuto anche nella parte soprattutto nella parte impiantistica quindi come diceva Michele si sono buttati via diciamo così tutti i vecchi radiatori e si è realizzato un impianto radiante. Qui come poi mi spiegherà anche meglio Michele l'esigenza era quella di essere meno invasivi possibile perché comunque chi fa i lavori soprattutto in questo periodo che c'è la necessità di velocizzare i lavori meno invasività hai all'interno delle lavorazioni meglio è sia da un punto di vista chiaramente economico ma anche da un punto di vista diciamo della velocità del cantiere. Poi vedremo anche la tempistica con cui è stata realizzata e con cui verrà realizzata anche quindi alla fine tutte le lavorazioni. Quindi come si diceva si è realizzato un impianto radiante la finitura la nuova finitura poi sarà un un gress effetto legno poi vi faccio vedere una foto. Si realizzerà questa tipologia di impianto cioè un impianto che permette appunto di inserire appunto la pavimentazione all'interno scusate la tubazione all'interno della pavimentazione utilizzando appunto questa macchina cioè fresando e realizzando i solchi dove appunto verrà posizionata la pavimentazione e quindi successivamente verrà appoggiata direttamente sopra incollata la nuova pavimentazione. Infatti questa è una foto di un altro cantiere ma alla fine sarà questo l'effetto nel senso che comunque sarà una pavimentazione anche qui con un gress finto legno e come vedete appunto era stata fresata una pavimentazione in gress spalmata sopra la colla quindi l'adesivo direttamente a contatto con la tubazione cioè non c'è bisogno comunque di fare una lisciatura sopra e successivamente o contemporaneamente chiaramente al fatto che veniva spalmata l'adesivo viene messa sulla nuova pavimentazione. Perché è stato scelto questo? Perché come vedete chiaramente si è partiti da un radiatore che ha un COP molto basso rispetto a un classico impianto radiante però andando su diciamo di efficienza energetica cioè passando dal classico radiatore all'impianto radiante in questo caso quello con il COP 3.5 sarebbe un impianto radiante diciamo così standard che ha una temperatura di funzionamento stimata di circa 35 gradi come temperatura rimandata si è passate al gradino superiore cioè avere un un impianto molto più efficiente molto più reattivo che addirittura potrebbe funzionare con i 4 dai 4 ai 6 gradi meno rispetto a un classico impianto radiante grazie alla sua velocità di attivazione e si può arrivare anche come vedete a un COP di 4 quindi aumentando l'efficienza partendo dal radiatore fino aumentando arrivando anche al più 37 per cento quindi significa che chiaramente quella pompa di calore che è stata scelta subirà veramente un un efficienza e un un grado di ehm di miglioramento da un punto di vista appunto dell'efficienza ma anche dei consumi ma soprattutto come si diceva prima anche ehm del comfort ehm da un punto di vista impiantistico eh se 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 Michele ci vuoi illustrare intanto eh volevo da te un una considerazione su sull'utilizzo di questo sistema radiante no cioè se è stato scelto perché io ho immaginato perché lo lo hai scelto ma magari se tu ci dai più più informazioni in merito alla scelta sì allora sicuramente sono gli aspetti che hai detto tu sono stati i principali fattori di valutazione sia per il caso specifico ma anche diciamo in virtù di altri casi futuri che dovremo affrontare adesso nel caso in questione l'abitazione è libera quindi il tempo necessario per le lavorazioni influisce ma anche meno però abbiamo clienti che intendono riqualificare l'impianto e eh sicuramente la soluzione Zero Mass come tempistica ci permette di efficientare l'impianto termico in tempi molto più ridotti rispetto a un pavimento radiante classico quindi quello sicuramente è uno dei fattori di valutazione più alta chiaramente anche l'inerzia termica ridotta perché con abitazioni con questo grado di isolamento l'inerzia termica diventa un fattore molto pesante da valutare quindi questi sono i principali fattori ecco dal punto di vista delle altre soluzioni come dicevamo prima impiantistiche è stata scelta una pompa di calore una splittata aria acqua con un serbatoio di accumulo in questo caso 500 litri perché nell'abitazione presenta anche una vasca una vasca da bagno quindi focalizziamoci anche sul bisogno di acqua calda sanitaria in fase di progettazione che è determinante sono stati predisposti gli allacci per i trattamenti di acqua che verranno poi installati in una fase successiva abbiamo anche predisposto e verrà installato un volano termico poiché tutto l'impianto compresa la regolazione è predisposto per poter lavorare anche in freddo nel momento non verranno montati i demodificatori però è già tutto predisposto per lavorare anche in freddo quindi abbiamo inserito anche un volano per avere un pochino più di contenuto d'acqua legato all'uso dei demodificatori come potete vedere i radiatori sono stati collegati in bassa temperatura all'impianto radiante in virtù dei carichi molto contenuti ma con una resistenza elettrica integrativa che può eventualmente intervenire qualora ci sia bisogno del bagno di qualche diciamo grado in più di comfort nei momenti più critici oppure soprattutto nelle mezze stagioni per evitare magari di dover accendere tutto l'impianto radiante anche se veloce magari è solo per scaldare un attimo il bagno abbiamo optato per la soluzione dei radiatori con integrazione elettrica dopo vabbè nello schema si possono vedere tutte le componentistiche di dettaglio quali di fangatore magnetico valvo di sicurezza eccetera eccetera non mi dilungherei troppo magari nell'aspetto impiantistico tutto questo quello che vediamo qua chiaramente fa parte del capitolo nuovi impianti no? esatto chiaramente rientra tutto nel computo metrico di cui parleremo dopo che è stato suddiviso fra la parte riscaldamento e la parte acqua calda sanitaria ok vado avanti come come diceva appunto prima Michele eh il tutto viene gestito da una regolazione cioè da chi guida l'impianto ma la cosa interessante diciamo a Michele che eh verrà l'impianto anche predisposto per la parte del raffrescamento quindi bisognava comunque mh mettere mh una regolazione che fosse in grado di gestire in questo momento solo caldo no? quindi solo la parte di ehm invernale ma successivamente ehm dovrebbe deve speriamo insomma che venga integrato deve ehm gestire anche la parte freddo quindi quando parliamo di freddo parliamo chiaramente della parte ehm ecco qua sì parliamo quindi della parte non solo ehm impianto radiante ma anche trattamento aria come diceva prima eh Michele la parte eh di umidificazione e questa regolazione è in grado appunto di fare questo no? infatti eh sono state emesse delle sonde che ehm misurano tutta la parte di ehm della parte calda quindi temperatura ma anche umidità relativa e quindi quel quel valore di umidità relativa poi servirà per far partire un'eventuale di umidificazione no? quindi se se si supera la soia a limite la la regolazione fa partire appunto la di umidificazione tu hai scelto delle sonde un po' particolari diciamo no? cioè o quanto me è perché? Noi abbiamo scelto come dicevi giustamente sono tutte sonde temperatura umidità eccetto quelle nei bagni chiaramente per poter comandare anche la di umidificazione in più sono tutte sonde wireless tranne la prima che chiaramente fa da ricevitore anche questo è questa scelta è stata fatta uno nel caso di un esame perché al primo piano non facciamo altre opere impiantistiche non ci sono spostamenti elettrici eccetera quindi per evitare di dover fare assistenze murari agli impianti eccetera e più in generale per valutare già un sistema di regolazione torno all'esempio di prima per abitazioni in cui gli occupanti sono presenti e quindi bisogna ridurre al minimo quelli che sono i disagi quelle che sono le assistenze le rotture il wireless sicuramente è una soluzione molto comoda diciamo che questo appartamento è un po il caso pilota che vorrete replicare poi per altri altri lavori quindi sì ci sta tutto il voler provare sperimentare tra l'altro stavo notando che il posizionamento delle sonde anche corretto no perché molto spesso le sonde vengono posizionate comunque ma per varie necessità poi magari non è possibile ma comunque si si prova sempre a posizionarli nei muri interni no mai certo sulla muratura esterna anche se in questo caso è abbastanza isolato però comunque può essere condizionato no comunque dalle temperature esterne assolutamente sì anche abbiamo cercato di posizionarle lontane da fonti di calore e fonti di illuminazione come può essere appunto di fronte a un serramento il più possibile nelle posizioni migliori anche da questo punto di vista il wireless aiuta esatto cioè ti aiuta tanto no perché alla fine fai semplicemente un buco con un tassello e lo metti giù se no è l'acqua di adesivo in alcuni casi queste sonde poi hanno delle delle pile comunque che durano molti anni e quindi non è che uno pensa magari che sai mettere la sonda dice poi ogni settimana devi andare a cambiare la batteria no in realtà durano parecchi anni quindi da questo punto di vista non c'è nessun punto altro piccolo vantaggio che qualora ad esempio in fase progettuale non sia ancora perfettamente definito il mobilio col wireless abbiamo la possibilità comunque di spostarlo qualora non sia posizionato in posizione corretta perché magari nascosto da un mobile molto vicino a un mobile quindi influenzato corretto corretta osservazione faccio anch'io i complimenti per come sono stati posizionati i sensori a regola d'arte allora andiamo avanti con forse la parte più attesa di questo webinar che è la parte relativa al computometrico più attesa perché la parte nuova no rispetto a quello che erano delle ristrutturazioni o delle riqualificazioni ehm allora perché viene fatto il computometrico fondamentalmente viene fatto per andare a verificare la congruità dei prezzi delle soluzioni che eh sono considerate all'interno della riqualificazione come deve essere fatto diciamo questa questo lavoro di eh analisi della congruità di prezzi allora ci si affida prima come appunto citato dal decreto prima i prezziari eh regionali se le le soluzioni scelte non sono in questi prezziari regionali si vanno a guardare i prezziari eh il preziario nazionale il DEI ma c'è anche la possibilità nel caso in cui le soluzioni non siano contemplate in entrambi diciamo i documenti di creare un di fare un'analisi eh analitica quindi andare a determinare un nuovo prezzo e in quel caso si può fare riferimento a eh i diciamo i limiti di costo che sono indicati nel famoso allegato I che viene sempre spesso eh citato questo questa procedura che cosa serve a verificare quindi sia i limiti di spesa ma anche i limiti i limiti della detrazione Giuseppe non so se vuoi aggiungere qualcosa relativamente a a zero max e questi famosi centocinquanta euro metro quadro volevo volevo solo aggiungere poi magari chiedo anche a Michele che ci diamo un chiarimento no perché in realtà mh quali erano le strade come dicevi giustamente tu uno faceva il nuovo prezzo quindi prendevo tutte le varie voci dello zero max perché lo zero max è un un impianto radiante eh relativamente nuovo insomma c'ha c'ha dieci anni di vita diciamo così ma comunque è un qualcosa di particolare che ancora non è inserito all'interno di questi prezziari o comunque del relengo prezzi idee quindi qual'era eh potevo fare semplicemente la varia varie analisi quindi la manodopera anziché perché comunque lo zero max non l'abbiamo detto prima ma è un servizio no è un servizio chiave in mano quindi ehm è tutta la parte di manodopera quindi di installazione ma anche la fornitura quindi potevo mettere all'interno di questa di questo nuovo prezzo tutti va tutte le varie voci no però per comodità magari uno può può dire io faccio riferimento all'allegato i e tengo come limite massimo i centocinquanta euro metro quadrato poi chiaramente correggimi se sbaglio michele ma chiaramente un minimo di di nuovo prezzo lo devi fare se comunque devi mettere alcune voci no di riferimento per dare eh allora i riferimenti per chi andare a fare lavori no noi ci siamo mossi in questo modo come dicevi chiaramente tu non è presente lo zero max né il preziario regionale lombardia in questo caso e nemmeno nel dei quindi l'unica soluzione era fare un'analisi nuovo prezzo usare l'allegato i dato che l'allegato i è stato specificato che non comprende la manodopera noi abbiamo pensato di fare un'analisi nuovo prezzo prendendo come valore del materiale quello indicato dall'allegato i e aggiungendo un'analisi nuovo prezzo sulla manodopera che è necessaria chiaro che dato che l'allegato i specifica che i valori sono omnicomprensivi nell'allegato i per quanto riguarda lo zero max abbiamo inserito tutto quello che riguarda lo zero ma quindi anche la regolazione una voce unica che comprende tutto quello che serve per configurare il sistema zero max aggiungendo la manodopera per la posa e la manodopera per la posa della pavimentazione dato che è stato specificato che anche la pavimentazione rientra nella detrazione fiscale esatto esatto quindi è una voce nuovo prezzo partendo da un dato 150 euro metro quadro dell'allegato i perché non c'è una voce nei preziari ne abbiamo cercato ma anche con voi abbiamo visto insieme non c'è una voce nuovo prezzo una voce da prezziario da poter utilizzare questo diciamo che queste queste varie strade no che ci mettono a disposizione e la furbata diciamo scusate il termine che deve avere il tecnico e capire dove gli conviene andare a a parare no nel senso che comunque magari se io faccio i prezzi regionali sono più alti del dei mi prendo come riferimento i prezzi regionali o viceversa no o comunque se vado a fare tutta la parte come dicevamo prima della legato i ci sono delle delle categorie per esempio sull'impiantistica radiante che magari tipo il soffitto che sono calcolati o come limite di spesa sono molto bassi no eh tipo il soffitto e quindi mi conviene a questo punto fare un'analisi prezzi no per avere un un limite più alto no questo è diciamo nello specifico per lo zero ma poi più diciamo una valutazione più estesa sulla voce nuovo prezzo noi abbiamo cercato dove possibile di crearla in maniera analitica prendendo le singole voci del preziario in questo caso noi abbiamo utilizzato il day per comodità essendo che lavoriamo tra due regioni farlo con un prezzo regionale poi basta cambiare comune e bisogna ricambiarlo tutto quindi abbiamo scelto di utilizzare il day quindi dicevo abbiamo fatto un'analisi nuovo prezzo con le varie voci del preziario poi come prassi sulle altre lavorazioni cerchiamo sempre poi di confrontarla con due offerte per vedere che la nostra analisi prezzo analitica sia comunque abbastanza in linea con le voci di mercato esatto penso che abbiamo chiarito abbastanza diciamo in maniera precisa qual è diciamo la procedura adesso nella prossima slide cerchiamo eh di eh approfondire e inquadrare la differenza tra i massimali di spesa quello che è detraibile il computo e così via allora in questa tabella abbiamo diviso eh vedete tra gli interventi trainanti e eh le le soluzioni trainanti e le soluzioni trainate quindi involucro e sostituzione dell'impianto le soluzioni trainanti serramenti fotovoltaico accumulo quelle che vengono trainate nella prima colonna qui vedete il massimale di spesa che è eh appunto eh di riferimento il limite di spesa agevolabile al centodieci per cento però può essere uguale a questo diciamo a questo massimale di spesa ma può anche essere diverso in questo caso l'unico essere differente come vedete è quello relativo ai serramenti perché è diverso perché i serramenti essendo una soluzione trainata si fa riferimento a quella che è lo schema di detrazioni dell'eco bonus e quindi il massimale dei sessanta mila euro che era previsto per l'eco bonus deve essere rapportato al nuovo schema di finanziamenti che è al centodieci quindi semplicemente come vedete nella formula si è diviso per uno uno e il nuovo massimale dal limite di spesa agevolabile è pari ai cinquanta quattro mila cinquecento quarantacinque questo lavoro deve essere fatto per tutte le soluzioni che sono praticamente trainate e in cui eh per le quali si fa riferimento allo schema del dell'eco bonus perché fotovoltaico ed accumulo non hanno queste variazioni perché entrambe le soluzioni sono chiaramente eh richiamate proprio nel decreto requisiti e quindi il massimale rimane praticamente lo stesso e come vedete è in funzione o della potenza o dell'energia nel caso dell'accumulo quindi questo è il limite di spesa agevolabile dopodiché e qui mi faccio aiutare anche da da Michele si è andato a calcolare fondamentalmente l'importo massimo che può essere considerato per le soluzioni dall'analisi del computo e qui potete vedere che in questo ovviamente varia a seconda della tipologia edilizia o comunque delle caratteristiche no intrinseche dell'immobile che stiamo che stiamo considerando infatti vedete che da computo per esempio l'involucro esterno in realtà l'importo massimo è più basso rispetto al limite di spesa agevolabile cosa che invece si diciamo si scambia quando si va a vedere invece la parte di sostituzione dell'impianto termico infatti l'importo massimo era superiore a quello che fondamentalmente può essere eh può essere agevolato mentre invece ci stiamo benissimo diciamo con dal punto di vista eh diciamo dei dell'importo massimo per le soluzioni soluzioni trainate vuoi aggiungere qualcosina Michele relativamente a questo o vediamo subito la parte delle offerte fondamentalmente quello che hai detto l'importo massimo da computo è quello che deriva dal analisi che abbiamo fatto di cui abbiamo appena parlato nel computo con i vari voci di preziari o analisi nuovi prezzi quindi bisogna stare attenti diciamo a questo no a queste due differenze comunque seguire tutti questi vari step perché magari si va a considerare è ovvio che diciamo la spesa è il secondo aspetto cioè prima bisogna considerare che si sta andando a fare una riqualificazione e si stanno scegliendo delle soluzioni valide dopodiché passa la parte diciamo economica non è ovviamente trascurabile però diciamo passa eh al secondo gradino per finire a questa colonna abbiamo aggiunto poi quelli che sono eh quello che viene abbiamo stato ricavato dalle offerte e eh qui ovviamente eh vedete come poi le offerte sono più basse rispetto a diciamo all'importo massimo da computo e anche il limite di spesa eh di spesa agevolabile. Eh in questo caso particolare è facile dimostrare la congruità dei prezzi perché le offerte appunto stanno tutte sotto quello che è il limite inferiore tra il computo e il limite di spesa agevolabile. Perfetto non fa una piega direi. E questo come vabbè poi lo vedremo più avanti no però comunque alla banca per quanto riguarda tu presenterai comunque l'importo del relativo al computo. Sì è uno degli allegati che viene richiesto. Ok e quindi poi nel momento in cui ci saranno le offerte ci sarà conclusione insomma il il consultivo dei lavori se di meno non è un problema. Cioè nel senso che comunque la banca anzi no. Assolutamente sì se l'importo dei lavori è inferiore a quello che era stato computato è molto semplice come dicevo prima affermare la congruità dei prezzi. Allora invece per un capitolo ad esempio può essere l'impianto che è molto vicino al limite l'offerta superasse quello che è il limite di spesa la parte eccedente andrà quantificata ed è tratta in modo diverso non dal 110 chiaramente perché è esulato dal limite. Esattamente. Andiamo, riesco ad andare davanti con le slide, eccolo qui. Ovviamente cosa può rientrare in questo massimale? Qui abbiamo fatto vedere nella slide precedente diciamo no tutta l'analisi dei costi nel massimale possono rientrare le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, le spese per la posa in opera, tutte le spese professionali per la per la progettazione e anche tutti i costi che sono collegate alla realizzazione degli interventi quindi ad esempio le spese relative all'installazione dei ponteggi o allo smaltimento dei materiali rimossi o eccetera eccetera. Ovviamente bisogna valutare in fase di stesura appunto di computometrico e valutazione delle offerte quando conviene o non conviene inserire diciamo queste spese all'interno della parte relativa al super bonus 110 perché magari alcune delle soluzioni possono rientrare anche nella parte di ristrutturazione come abbiamo visto in questo caso è diciamo associata alla riqualificazione quindi la bravura sta proprio nel tecnico a valutare appunto come diceva Giuseppe prima dove andare a limare diciamo tutta la parte del computometrico e della progettazione. e poi anche in fase di contabilità tenere molto distinto e ben separato quello che è lavoro al 110 e quello che è lavoro al 50. Esattamente. Altra cosa che dobbiamo puntualizzare è per le spese professionali per la progettazione attenzione a ripartirle in maniera diciamo a spalmarle sulle varie voci quindi ad esempio ritorniamo qui un attimo su questa tabella le spese di progettazione non si fa un unico diciamo preventivo per la parte di progettazione ma deve essere divisa tra la parte dell'involucro, la pertinenza della sostituzione di impianto termico serramenti e tutta la parte del fotovoltaico. Infatti non a caso Michele nel vostro studio siete in tante figure che collaborate alla realizzazione di questi di questi progetti di riqualificazione e quindi infatti avete proprio diviso la parte delle competenze proprio per cercare di ottimizzare anche i massimali che abbiamo avete a disposizione. Abbiamo parlato appunto delle spese ovviamente non possiamo non fare riferimento ai sistemi radianti quindi queste spese si traducono ovviamente nella fornitura e la posa in opera del materiale dell'impianto radiante, la regolazione e il trattamento aria le spese per la demolizione e lo smaltimento del massetto e pavimentazione che ad esempio per lo zero Max, no Giuseppe? In questo caso appunto noi l'abbiamo messo come indicazione generica però nello specifico non ci saranno spese per la demolizione e smaltimento del massetto e della pavimentazione ma anche la va avanti la voce successiva relativamente anche al rifacimento del massetto anche in questo caso chiaramente non avendo demolito nulla fresando l'esistente semplicemente appoggiando la nuova pavimentazione non avete la necessità quindi di rifare il pavimento quindi queste due voci, queste due spese sono diciamo un gruzzoletto che metto da parte che magari posso utilizzare per magari la pavimentazione o per altre cose che rientrano nel pacchetto come abbiamo detto prima di tutti i lavori che rientrano appunto nei massimali come appunto il ripetimento della nuova pavimentazione Sì, qui in questo caso adesso stiamo parlando di pavimento ma qui abbiamo messo proprio le due immagini anche del soffitto perché le stesse spese ovviamente per la pertinenza del soffitto possono essere anche appunto detratte anche queste portate al super bonus ovviamente come dicevo prima lo ribadiamo anche in questo caso deve essere fatta una valutazione per capire se queste spese eventualmente possono essere anche shiftate nella parte di ristrutturazione quindi valutate sempre un po' nel complesso quello che è diciamo il meglio il meglio ottenibile Sì, la cosa che hai detto tu, una cosa importante e quella che hai detto tu e che sostengo anch'io ma credo la maggior parte dei progettisti che l'importante è partire dalla soluzione tecnica cioè io devo fare una cosa fatta bene cioè l'errore purtroppo derivante un po' dalla comunicazione che c'è stata che col 110 io devo fare lavori e non devo pagare un euro cioè come dice la stessa parola è un incentivo, non è un regalo quindi io devo fare qualcosa di fatta bene, progettato bene come ha fatto appunto Michele come abbiamo visto infatti magari nel computo veniva fuori che l'impiantistica era un po' più alta dei massimali però lui comunque è andato avanti perché voleva quella soluzione lì poi chiaramente nell'offerta vabbè succede quello che succede ma l'importante è appunto fare un progetto a regola d'arte che garantisca appunto l'efficienza e tutta la parte anche di comfort esatto diciamo che quella del rifare la casa gratis è una delle tante fake news mettiamola così che stanno girando in questo periodo insieme a tutte quelle relativi alla pandemia andiamo avanti allora arriviamo all'altro punto diciamo molto atteso anche questo che è quello relativo alla alla cessione del credito allora in questo caso la cessione del credito è una cessione del credito diretta perché come abbiamo detto all'inizio appunto Michele è anche il proprietario dell'immobile e quindi si è interfacciato direttamente con le banche per fare la parte di cessione del credito quindi vedete qui che siano ripartite in queste due frecce ha avuto il contatto prima appunto con con la banca e poi ha fatto una serie di contratti per beni e prestazioni o farà insomma con i fornitori che eseguiranno i lavori nella sua abitazione non è un appalto unico ma sono diversi contratti proprio perché vengono fatti diversi diversi lavori quindi abbiamo visto sulla parte dell'involucro quanto sulla parte dell'impianto adesso io cedo la parola a Michele che ci racconta proprio l'iter dal punto di vista del privato l'iter che ha seguito interfacciandosi proprio con con la banca ok allora noi ci siamo interfacciati principalmente con due banche adesso non faccio i nomi comunque sono due banche le prime diciamo che si sono mosse per quanto riguarda il 110 ormai tutte le banche come alcune assicurazioni hanno creato delle piattaforme ad hoc con società di consulenze esterne su cui il privato tramite un codice che viene diciamo generato dalla banca può allegare tutta la documentazione necessaria documentazione necessaria che è molto corposa e che arriva diciamo alla fine di tutta quella che è la fase progettuale quindi un po' diciamo un freno è quello che il cliente può andare in banca quando ha già incaricato il professionista e il professionista ha già svolto buona parte del suo lavoro quindi si procede con il caricamento di tutti i documenti prima dicevi Marta giustamente che io ho richiesto o firmerò i contratti faccio presente che nella documentazione richiesta dalla banca ci sono già i contratti quindi il cliente che carica la documentazione sulla piattaforma deve avere già anche in mano i contratti con le ditte fornitrici poi la piattaforma assegnerà la valutazione della pratica a un referente e alla fine della valutazione che può richiedere integrazione o meno può essere approvato o meno la piattaforma stessa genera una comunicazione alla banca in cui praticamente permette alla banca di contattare il cliente per formulare l'offerta di acquisto del credito se tutta la documentazione che è stata inviata è completa diciamo che sulla parte documentazione ci sono due modalità la prima è quella che abbiamo seguito noi cioè avere già tutte le asseverazioni perché noi avendo già un pool diciamo completo abbiamo già tutte le asseverazioni se no queste società esterne forniscono anche il servizio di asseverazione che però io non ho approfondito nel caso per quanto riguarda le condizioni generalmente le banche acquistano il credito d'imposta 110 al 102-103% a seconda della banca per quanto riguarda invece il credito d'imposta maturato da opere di ristrutturazione edilizia 50% lo stesso viene acquistato ma al 40% per chi diciamo ha bisogno di liquidità la banca propone un prestito ponte che è fondamentalmente come un fido di cassa per intenderci con un tasso che va mediamente dipende dall'istituto dipende se uno è già cliente o meno dal 2,5% al 3% anno ma si paga solo sul tempo per cui viene utilizzato questo fido di cassa l'altra cosa importante durante l'inserimento della documentazione e quindi già in fase contrattuale con le ditte bisogna già aver scelto se il pagamento verrà a fine lavori o per stato avanzamento lavori che come tutti ben sappiamo possono essere al massimo 2% esatto al 30% o al finale questo caricamento deve essere fatto quando le cose sono già molto chiare come vediamo nella slide dall'analisi sia del mio caso che degli altri casi che abbiamo già portato avanti è meglio chiarire al committente finale che nel bene o nel male un 15-20% rimane a carico perché ad esempio, faccio l'esempio come dicevamo prima mentre rifacciamo il cappotto dobbiamo comunque ritinteggiare magari la parete del garage che non è oggetto di 110 i balconi che non sono oggetto di 110 qualora ci siano delle terrazze magari ritinteggiare il solaio della terrazza che non è magari oggetto di 110 in più potrebbero esserci spese che escono dalla conformità dei prezzi dalla congruità dei prezzi quindi è meglio anticipare al cliente che l'informazione che è stata trasmessa di, come dicevi tu Marta, ristruttura a casa gratis non è proprio così chiaramente è un ottimo vantaggio chiaramente sì perché stiamo riqualificando tutto il parco cioè si spera che si riqualificherà buona parte del parco edilizio italiano e ovviamente con super sconti da parte dello Stato parliamo di sconto e non di fare i lavori gratis è veramente una fake news che sentiamo in continuazione e che vorremmo non sentire più giustamente il mio collega ha sottolineato che nel contratto d'appalto consigliamo al cliente di firmare il contratto d'appalto con le imprese ma per quanto riguarda i lavori di 110 inserire una clausola come può essere la clausola che c'è nei mutui quindi salvo un buon fine dell'accettazione da parte della banca chiaramente questo può ritardare l'inizio dei lavori nel senso che si presenta la pratica sia dall'inizio dei lavori ma le imprese magari aspettano di partire con i lavori una volta che la banca ha confermato questa è una clausola che noi generalmente mettiamo chiaro se possiamo chiederti al momento tu nella procedura della cessione del credito sei a che punto di questo allora io ho caricato tutta la documentazione che mi è stata richiesta preciso che una piattaforma quella che sto usando io purtroppo non spaventatevi ma richiede anche documentazioni non pertinenti nel senso che sabato mi sono arrivate otto mail di richiesta documentazione tra cui una dichiarazione che le onlus devono fare annualmente io non sono chiaramente una onlus ma un soggetto privato quindi ho fatto una richiesta di assistenza che fortunatamente è stata avvasa in un giorno quindi sono stati molto veloci in cui mi hanno detto che la procedura è diciamo una procedura standard per tutte le tipologie di soggetti che possono accedere quindi vengono anche richiesti documenti che non sono pertinenti e o non si caricano e la pratica va avanti lo stesso oppure come ho fatto io si carica una dichiarazione in cui chiaramente si attesta che il documento richiesto non è pertinente io sono al punto in che la mia pratica è stata assegnata a una persona che dovrà valutarla e ha già iniziato a valutare e convalidare alcuni documenti che ho avviato purtroppo non so darvi al momento indicazioni sulle tempistiche perché per la banca a cui mi sono rivolto e diciamo almeno tra quattro filiali della zona è il primo caricamento completo sì diciamo che è tutto in divenire per tutti però dai un buon inizio assolutamente magari quando saremo in grado di gestire tutta la parte burocratica finirà a 110 no dai un po' di attimismo comunque come consiglio che possiamo dare a chi ci sta seguendo oggi di armarsi di pazienza armarsi di pazienza e fidarsi del tecnico purtroppo a volte chi opera in banca non voglio generalizzare ma ci è capitato con alcuni clienti danno delle informazioni che non sono propriamente precise informazioni che chiaramente non è un loro dovere fornire però magari a forma di parere personale vengono fornite e non sono esattamente coincidenti con quello che è sancito dalla legislazione 110 esatto e quindi possono diciamo un po' tra virgolette mettervi i bastoni tra le ruote perché ovviamente mi metto anche nei panni del cliente finale che vede due versioni e ovviamente non sa no? assolutamente quale prendere quindi sì fidatevi del professionista e del tecnico che è abilitato che vi segue in tutta la pratica o perlomeno di chi vi dà un riferimento normativo chiaro e preciso vero giusto allora finalmente siamo all'inizio dei lavori che sono già iniziati sono iniziati da due da due settimane ovviamente prima dell'inizio lavori Michele avete dovuto consegnare della documentazione sia in comune quindi il deposito della legge 10 la comunicazione di inizio lavori quindi la CILA e anche delle relazioni tecniche queste relazioni tecniche possono variare ovviamente da comune a comune perché sappiamo che ci sono delle legislazioni differenti nel vostro caso nel tuo caso c'è stata qualche relazione tecnica specifica da presentare? sì nel nostro caso abbiamo presentato anche la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi come richiesto dalla legge regionale 13 2001 della Lombardia perfetto quindi il consiglio ai tecnici che ci stanno che stanno seguendo che magari già ovviamente svolgono nel corso della loro attività quotidiana vedete appunto col comune quali varie relazioni devono essere diciamo consegnate e poi ovviamente anche la comunicazione all'azienda sanitaria locale di inizio lavori settimo passo di questi dieci è ovviamente la direzione di lavori che sarà tra il dicembre del 2020 e l'aprile del 2021 qui abbiamo mandato in vacanza il radiatore esatto e la cosa interessante è proprio perché i lavori sono iniziati diciamo nel periodo invernale secondo me è molto interessante l'approccio che state che state seguendo se ci vuoi un po' raccontare la timeline dei lavori come saranno strutturati diciamo che è variata nel corso della progettazione dovendo appunto fornire tutta questa documentazione iniziale è cambiato un po' quello che è stato che era l'approccio che volevamo fare i lavori si svolgeranno prettamente adesso nella parte interna quindi siamo partiti con tutte quelle che sono le opere al 50% sempre in virtù del ragionamento che abbiamo fatto prima sul capitolato d'appalto e contratto d'appalto sulla clausola da inserire diciamo del buon esito della banca quindi siamo partiti con tutte le opere di ristrutturazione edilizia al 50% poi proseguiremo con le opere di efficientamento energetico ma diciamo dalla parte interna quindi il placcaggio dei controsoffitti o sostituzione dei serramenti interni e tutto quello che è l'impianto termico quindi con la relazione dell'aridizzazione dello zero max e poi tutta la finitura del pavimento nuovo l'installazione della regolazione per quanto riguarda invece le opere esterne quindi coibentazione a cappotto e l'installazione del fotovoltaico attenderemo tempi e diciamo condizioni meteorologiche un po' più clementi un po' più adatte come vedete c'era la neve qualche settimana fa per cui diciamo non è il periodo migliore l'unica opera che andremo a fare proprio propedeutica al cappotto è la dismissione dei marmi sotto finestre esistenti che verranno tolti perché l'astra continua per correggere il ponte termico è l'unica opera che faremo perché chiaramente poi non potremo farla dopo diciamo che vi fate delle opere propedeutiche per poi andare spediti quando no è possibile ottimo andiamo al punto 8 che è l'ape post operam e l'ape di fine lavori qui abbiamo preparato una slide per andare anche qui a chiarire la differenza tra tra i due quindi allora vediamo l'ape convenzionale ante e post opera sono praticamente gli attestati di prestazione energetica che devono essere allegati alle asseverazioni viene fatto appunto quello prima della realizzazione degli interventi e dopo la realizzazione degli interventi e questo viene diciamo eseguito dal progettista o dal direttore lavori e segue il metodo di calcolo nazionale questo ape è differente e questo viene richiesto proprio per lo specifico diciamo del super bonus 110 perché deve essere allegato alle asseverazioni c'è poi un'ape che è l'ape di fine lavori che già era praticamente in vigore prima ovviamente il super bonus che è quello che deve essere fatto da un certificatore terzo quindi non dal progettista che sta seguendo i lavori e che ovviamente segue le disposizioni regionali perché vedremo regione per regione possono ovviamente cambiare ed è quello che poi deve essere comunicato al catasso energetico fondamentalmente quindi ad esempio l'ape convenzionale abbiamo visto sono questi che Michele ha redatto pre e post operam ci sono diciamo diversi programmi di calcolo sul mercato che sono stati validati dal comitato termotecnico italiano e fondamentalmente fanno il calcolo dei fabbisogni dell'energia secondo la metodologia semplificata della UNITS 11.300 l'ape invece di fine di fine lavori come vi dicevo deve essere il metodo di calcolo quello della regione in cui è situato l'immobile e vedete qui dalla cartina italiana ci sono alcune regioni che hanno proprio il loro modello regionale provinciale tipo Trentino Alto Adigera Lombardia Piemonte ma anche altre regioni che hanno invece seguito le linee guida nazionali quindi ad esempio per la regione Lombardia Michele voi farete la comunicazione al CENED che è la lente di certificazione cioè non è lente di certificazione il riferimento per questo e quindi questo ape finirà ovviamente nel catastro energetico regionale poi in quello nazionale esatto allora passo 9 siamo quasi alla fine è il visto di conformità visto di conformità Giuseppe ce ne parli tu del visto sì volentieri per quanto riguarda appunto la conformità come si diceva prima che chiaramente alla fine qualcuno deve dare la conformità di tutto quello che si è fatto per avere diritto alle detrazioni quindi in merito chiaramente al super bonus chi lo rilascia in questo momento dovrebbero rilasciarli commercialisti anziché consulente del lavoro anziché CAF o similari comunque chi fa chi si occupa normalmente insomma di queste attività che cosa verificheranno loro c'è una checklist lunghissima noi chiaramente abbiamo sintetizzato abbiamo dato delle indicazioni per macro aree ma sostanzialmente si verificherà chiaramente se il soggetto è beneficiario soprattutto in merito anche al possesso o all'uso del bene quindi la tipologia anche dell'immobile se rientra in quelle categorie tutta la parte diciamo di verifica dei lavori che sono stati fatti sono trainati e trainanti e quindi i rispettivi limiti di spesa anziché tutta la parte che riguarda diciamo le attestazioni professionali che le cosiddette asseverazioni come diceva Michele chiaramente in questo caso è abbastanza semplice il lavoro perché comunque diciamo la maggior parte tutti i lavori che verranno fatto sono al di sotto dei massimali quindi non ci dovrebbe essere problema quindi chiaramente tutta la parte delle ape ant e post e bisogna legare anche bisogna inserire all'interno insomma tutta la parte verificare la parte degli allegati CED del decreto ma soprattutto la mail che è stata ricevuta dall'Enea questa CPID che sarebbe un codice alfanumerico che identifica appunto che è stata inoltrata la pratica e poi cosa importante la famosa assicurazione dell'asseveratore come sapete ogni progettista comunque deve avere una sua assicurazione questo diciamo tutto questo iter è importante deve essere fatto solo come in questo caso che è stata chiesta scusate la cessione del credito oppure un'eventuale sconto di fattura chi lo fa da sé diciamo così si arrancia nel senso che comunque si prende il credito e verrà poi diluito in quei 5 anziché 10 anni per quanto riguarda la ristrutturazione non c'è bisogno di avere questo documento diciamo che verrà rilasciato da commercialista anziché dai consulenti in teoria adesso non ci sono diciamo dei riferimenti precisi ma quanto costerebbe questo documento si parla dallo 0,7 all'1% dell'importo lavori quindi adesso sinceramente non è sicuro adesso insomma pian piano credo che verrà chiarito e soprattutto questo può essere detratto poi come importo che verrà appunto pagato al commercialista di turno diciamo che avremo più informazioni man mano che Michele andrà avanti con la procedura quindi in realtà questo diciamo non è un addio oggi con questo diciamo questo format ma una rivederci perché diciamo vorremmo anche completare poi più avanti dando informazioni man mano che il processo andrà avanti quindi vorremmo vorremmo anche se è possibile se le condizioni meteo e comunque le tempiste ciò permettono anche seguire il cantiere quindi anche farvi vedere le soluzioni che sono state adottate magari facendo anche delle vere e proprie diciamo così verifiche in cantiere con chi fa i lavori poi vediamo e speriamo insomma che possiamo riuscire a organizzare tutto sì sì ce la faremo ce la faremo rimaniamo collegati allora arriviamo finalmente al decimo passo che è quello appunto della fine lavori e della trasmissione della documentazione allora qui ho ripreso un po' le slide che avevamo già presentato nei webinar precedenti che avevamo fatto relativamente al super bonus qui sul nostro canale youtube appunto trovate tutti gli altri interventi che abbiamo fatto nel corso dei mesi vado avanti sull'acquisizione della documentazione insomma abbiamo visto fino ad adesso quali sono tutti i vari passi documenti da ovviamente avere e passo direttamente faccio un recap di quello che abbiamo detto sulla trasmissione ad Enea fondamentalmente il beneficiario o anche l'intermediario diciamo anche il tecnico può fare questo fa appunto la comunicazione ad Enea in che cosa consiste? ci si scrive sul portale di Enea c'è un portale dedicato al super bonus centodieci dopo vi faccio vedere il link e c'è praticamente la trasmissione della documentazione che sono fondamentalmente gli allegati c e d del decreto requisiti il l'allegato uno o due a seconda se a lavori conclusi o a sal del decreto asseverazioni poi c'è la parte di documentazione anche sulla sulla polizza fondamentalmente seguite diciamo la procedura e le istruzioni che sono dettate dal sito e fondamentalmente una volta caricati tutti i documenti Enea vi rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione con questo codice identificativo unitario che è il CIPID che appunto diceva diceva Giuseppe il link per la trasmissione quindi vi dicevo c'è un sito dedicato è online dal 27 di ottobre qui in basso appunto trovate il link detrazionifiscali.enea.it e ricordiamo che la comunicazione deve essere fatta entro 90 giorni dalla fine lavori altra comunicazione che deve essere fatta è quella all'agenzia delle entrate questa è appunto la trasmissione del documento che viene diciamo citato o comunque fatto riferimento nella circolare dell'agenzia delle entrate fondamentalmente a che cosa serve questa serve a dire all'agenzia appunto delle entrate che cosa se ne farà del credito che viene maturato da questi interventi quindi le informazioni della comunicazione sono tutte quelle che sono più o meno riportate nei documenti che sono già trasmessi ad Enea ovviamente in questo caso se si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura si presuppone che ci sia già l'accordo con la banca o la finanziaria ed eventualmente con i fornitori questo sul sito dell'agenzia delle entrate trovate il link per poter scaricare il tool che è praticamente un plug-in da installare sul vostro pc e quindi questa è la schermata che avrete appunto per la comunicazione poi ovviamente non ho riportato qui ma internamente tra Enea e l'agenzia delle entrate ovviamente ci sono delle loro comunicazioni interne proprio sul codice di riferimento diciamo della pratica siamo quasi giunti al termine qui abbiamo voluto riassumere appunto i dieci passi andando a vedere anche un po' le tempistiche attese quindi io inizio a parlarne poi eventualmente commentiamo anche insieme a Michela Giuseppe quindi fondamentalmente l'accesso agli atti è iniziato a settembre 2020 quando avete acquistato l'abitazione l'Ape praticamente a seguire e anche gli scenari di intervento tra novembre appunto anche il computometrico è stato generato perché ovviamente noi li abbiamo messi come due step distinti concettualmente ma ovviamente sono due lavori che vengono fatti in concomitanza una volta scesi gli interventi si passa al computo dopodiché appunto ti sei interfacciato con la banca per la cessione del credito quindi questo novembre dicembre perché abbiamo visto ancora in corso inizio lavori dicembre 2020 i lavori andranno avanti tra il dicembre abbiamo visto l'aprile andando a vedere gli interventi interni e poi gli interventi esterni qui appunto dal punto sette al punto nove perché ovviamente questi sono un po' conseguenziali l'Ape post opera ma il visto di conformità abbiamo visto arrivano proprio alla fine dei lavori e infine il decimo passo che abbiamo visto adesso che è quello di comunicazione di fine lavori all'agenzia delle entrate quindi previsto ci auspichiamo forse ancora prima di maggio magari ad aprile già si riesce diciamo abbiamo messo maggio come termine ultimo per la trasmissione della documentazione benissimo quindi vedete che comunque intercorre un po' di tempo per la parte diciamo di riqualificazione se Michele ci vuoi commentare quali sono stati fino ad oggi diciamo i punti un po' più mettiamolo così critici o comunque dove c'è un un dispendio di tempo maggiore sicuramente rispetto diciamo a un progetto classico la parte più onerosa come tempi è quella della riduzione del computometrico uno perché bisogna cercare tutte le diciamo le voci di capitolato più coerenti più precise possibile quindi già questo porta via un notevole tempo è vero che magari i primi saranno un po' più lenti poi alcune voci verranno buone per altri lavori però ogni lavoro ha una storia a sé quindi comunque ci saranno lavorazioni particolari eccetera quindi sicuramente la parte di computometrico è la parte più lunga finora svolta anche in virtù del diciamo di tutti i chiarimenti che in questo periodo si sono susseguiti quindi farei una cosa il giorno dopo c'è un chiarimento dei modifici ci sentiamo noi perché è uscito un chiarimento sullo Zaro ma eccetera eccetera esatto sicuramente quella è una parte molto lunga l'altra parte molto lunga è il caricamento della documentazione alla banca perché come dicevamo prima bisogna caricare alla banca già anche contratti d'appalto capitolati computi e quindi insomma è sicuramente un impegno di tempo considerevole rimane il punto di domanda sui tempi di valutazione della pratica da parte della banca ma su questo ne sapremo di più nelle prossime puntate no ovviamente da come si è capito bisogna comunque essere abbastanza uno studio tecnico strutturato per poter affrontare diciamo dei lavori di questo tipo infatti lavorate ovviamente in un team di lavoro insomma se ci vuoi raccontare un po' come vi siete strutturati internamente noi ci siamo strutturati cercando di dare al cliente finale un pacchetto che comprenda tutte almeno le prestazioni professionali in più anche una collaborazione stabile esterna con alcune ditte ad esempio termoidraulica impianti elettrici e qualche certificatore energetico che possa fornire l'attestato di fine lavori dal punto di vista progettuale copriamo tutti gli aspetti quindi la valutazione energetica il progetto idraulico il progetto elettrico con tutte le pratiche autorizzative ad esempio il fotovoltaico il progetto edile con tutta la cura dei ponti termici della soluzione dei ponti termici eccetera abbiamo un tecnico acustico come diciamo prima per la redazione della verifica previsionale dei requisiti acustici un responsabile della sicurezza che segue sia la parte di progettazione che coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e poi abbiamo anche una serie di professionisti che si occupano della parte strutturale quindi sisma bonus di cui non entriamo in merito in questo webinar il vantaggio di coprire tutti gli aspetti progettuali è molto grande perché una progettazione integrata semplifica di molto gli aspetti perché andare verso un fabbisogno diciamo dal punto di vista energetico per soddisfarlo deve comunque contemplare anche gli aspetti edilizi gli aspetti impiantistici quindi avere un pool di professionisti che lavorano insieme è indispensabile è lo stesso anche per i computi stessa cosa anche sull'edit perché se poi noi facciamo una progettazione molto precisa molto puntuale molto dettagliata ma l'esecuzione non segue queste indicazioni la nostra fase di direzione dei lavori che noi leghiamo la fase di asseverazione perché se non possiamo dirigere i lavori chiaramente non siamo in grado di asseverare che gli stessi vengano fatti in modo corretto avere delle ditte che sanno come devono lavorare come devono eseguire i lavori è fondamentale esatto quindi il consiglio è affidatevi a professionisti che hanno il quadro globale della situazione ecco specifico che questo non preclude il fatto che il cliente magari abbia già il suo idraulico di fiducia eccetera questo chiaramente no non vengono imposti però la possibilità di fornire un pacchetto completo è una soluzione vincente l'unica figura professionale che al momento non abbiamo inserito come vedete anche dalle slide è chi si occuperà del visto di conformità perché appunto come si diceva prima con Giuseppe c'è ancora poca chiarezza non si sanno ancora bene le cifre e poi generalmente diciamo che il cliente ha già magari un suo commercialista un CAF di riferimento quindi forse la figura che serve meno proporre esatto chiaro sei stato chiarissimo volevo solo aggiungere che proprio lo schema del super bonus è stato proprio pensato per agevolare quello che è il processo di progettazione integrata perché fino ad oggi molte volte si è assistita ad una riqualificazione un po' frammentaria prima faccio questa cosa poi faccio quell'altra e magari non si andavano a considerare le sinergie che potevano esserci tra le diverse soluzioni quindi la parola progettazione integrata la parola chiave da affiancare a super bonus 110 almeno per come vedo io questo schema di trazioni ma penso che siate d'accordo con me poi come mi fa notare giustamente il collega anche sulla parte fiscale ci stiamo lavorando nel senso che abbiamo già chiesto collaborazione a tre commercialisti a tre studi commercialisti siamo diciamo in divenire ecco chiaro in modo da coprire anche quell'ultimo aspetto esatto allora siamo arrivati al termine io ringrazio veramente Michele per la disponibilità e la professionalità che ci ha dimostrato in questo periodo di collaborazione che ovviamente non finirà qui grazie a voi io vi ricordo che è sempre relativamente al super bonus vi ricordo in generale il servizio di help desk tecnico che è attivo ormai da mesi potete chiedere consulenze su diverse aree tematiche ovviamente relativa al comfort radiante e tra le varie sezioni che potete scegliere c'è anche quella del super bonus quindi in quel caso prenotate una consulenza con me che faremo appunto via Teams appunto su delle tematiche se avete dei progetti in corso diciamo che è rivolto a fondamentalmente ai professionisti quindi se avete dei dubbi scrive cioè prenotate un appuntamento ecco e prima di lasciarci per farci gli auguri di buone feste si spera vi volevo invitare appunto non so io ma anche Giuseppe tutta Euroterm a oddio ho perso scusate sul momento clou ho perso la slide allora volevamo invitarvi ufficialmente ad una nuova iniziativa che Euroterm ha intrapreso dal 25 al 29 gennaio del prossimo anno ci sarà online la prima e unica fiera virtuale dedicata al confort radiante fondamentalmente vi potete iscrivere all'evento vi potete registrare per poter accedere a questa piattaforma praticamente online dovete immaginarlo come uno stand virtuale quindi non potendo avere la fiera effettiva abbiamo ricreata una virtuale e in concomitanza ci saranno una serie di eventi di webinar delle interviste quindi potete accedere accedere a tutti i contenuti il link diciamo questa piattaforma online può essere è accessibile dal 27 al 29 tramite anche il sito della Clima House Digital che è la fiera appunto Casa Clima che anche questa quest'anno si terrà per cause di forza maggiore in online quindi potete accedere direttamente anche da lì perché ovviamente siamo partner di questo evento quindi vi invito ad iscrivervi all'evento già durante l'iscrizione avrete diciamo delle mail di risposta con dei contenuti diciamo molto utili sia per il privato o per il professionista e questi cinque giorni fondamentalmente sono strutturati per aree tematiche quindi ogni giorno fondamentalmente affronteremo tramite come dicevo appunto webinar interviste o comunque consulenza diretta relativa appunto ad uno specifico argomento che va quindi dal radiante smart quindi in generale o alla alla ristrutturazione avremo la giornata dedicata proprio al super bonus con il nostro partner Gabetti e anche la giornata dedicata proprio all'installatore all'installatore radiante eh niente quindi io vi vi aspettiamo numerosi a a gennaio a questa nuova questa nuova iniziativa che abbiamo appunto lanciato e io abbiamo finito cioè vi auguriamo delle buone feste adesso prima di lasciarci vediamo un attimo quali se ci sono del diciamo del ci sono tantissime domande vedo infatti poco fa mi ero un po' staccato per andare a vedere però è un po' ci sono tantissime domande perché oggi siamo tantissimi siamo infatti contentissimi però capite bene che non riusciremo a rispondere a tutti c'era solo una domanda che aveva tirato la mia attenzione prima magari ti dico io ce l'ho qua due tre veloci sì 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 vai Giuseppe volentieri che loro chiedono nei 30.000 dell'impianto termico è compreso anche il riscaldamento pavimento relativo nuovo pavimento ingresse sì come abbiamo detto poi chiedono se l'indicazione dei 150 euro al metro quadrato in questo caso se lo zero max è il risultato più alto dei 150 euro al metro quadrato assolutamente no quindi ci stava tranquillamente all'interno della spesa poi vediamo altri perché veramente ce ne sono tantissimi è tutto interessante le domande però sì qualcuno chiede se le offerte dovranno essere allegate tra i documenti non so Michele se hai questa allora non le offerte in sé ma il contratto d'appalto quindi ok sì parliamo tra i documenti per la banca io cioè parliamo di quello esatto mi riferivo alla documentazione da allegare alla banca vanno allegati i contratti d'appalto il capitolato d'appalto e i computi metrici esatto poi c'è qualcuno anche la demolizione chiaramente è compresa come abbiamo detto prima ci chiedono se abbiamo un'analisi prezzi no per quanto riguarda la parte di impianti radianti sì volendo la possiamo fornire arriverà ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando quindi a breve vi faremo vi faremo informazioni quindi avrete l'analisi dei prezzi relativamente ad alcuni impianti radianti che abbiamo individuato che possono essere più indicati nella ristrutturazione quindi dei sistemi a basso spessore anziché il sistema a soffitto ma anche il nuovo prezzo relativo appunto allo zero max eventualmente quindi basta variare essenzialmente gli importi ma le voci sono sempre gli stessi esatto poi ci sono un sacco di domande relative al popolo webinar quindi come tutti gli altri webinar che abbiamo fatto lo troverete caricato sul nostro canale youtube Euroterm Italia che vi invito ad iscrivervi così potete essere sempre aggiornati su tutti i contenuti che creiamo non solo diciamo la parte di webinar ma anche tutti i contenuti che il nostro eccellente marketing crea io direi che se hai altre domande Giuseppe altrimenti io andrei verso la chiusura e poi lo so sono troppe no veramente sono tantissime al massimo qui avete i nostri riferimenti ovviamente cerchiamo noi di rispondere sì dimmi esatto no intanto ci sono i riferimenti e volendo possono anche mandarseli e con calma rispondiamo però è anche vero come dicevi tu appunto nell'evento che faremo poi a gennaio ci sarà anche lì la possibilità di avere una sorta diciamo di video chat e se vogliono si possono collegare magari possiamo anche parlare di di alcune cose che sono emerse anche oggi esatto sì tenete presente che noi ovviamente cerchiamo di avere la panoramica generale di quello che è il super bonus ma ovviamente siamo focalizzati più sull'aspetto relativo no alla parte impiantistica e alla parte relativa agli impianti radianti quindi diciamo che alcune domande un po' generiche molte volte anche noi facciamo fatica magari magari a rispondere e comunque per chiudere Marta solo questi due che mi sono capitato a voi per esempio per il solfitto a 50 euro al metro quadro come si fa? Faccio un riferimento al prezziario o seguo il prezzo o posso seguire quel prezzo? No 50 euro chiaramente non ci fa nulla e quindi devi fare riferimento al prezziario insomma per fare il prezzo concro diciamo così e poi il discorso del trattamento area si rientra a 110 anche qui insomma è un po' complessa la cosa sì il fatto è che ci sono pareri discordanti che stiamo leggendo di tutte allora quello che posso dire a chi ci sta seguendo adesso è che in un altro webinar avevo fatto vedere l'interpello che avevo fatto personalmente ad Enea nel quale avevo esposto proprio le caratteristiche dei nostri sistemi radianti che è il sistema di radiante smart in cui c'è il sistema radiante la regolazione e il sistema di trattamento area il tutto gestito dalla stessa regolazione il trattamento area che in realtà parliamo appunto della parte di deumidificazione e integrazione del carico sensibile vanno proprio a lavorare a supporto dell'impianto radiante quindi in quel caso Enea ci ha risposto che ovviamente loro non vedono le macchine di trattamento area tra la lista delle soluzioni dei traibili ma che la valutazione deve essere fatta dal tecnico abilitato quindi ovviamente sta un po' al tecnico se ha scelto quella soluzione di portarla avanti noi possiamo diciamo supportarvi con una presa di posizione comunque da parte dei produttori però ovviamente sta al tecnico portare avanti diciamo questa la soluzione ecco c'è altro Giuseppe o sì però non è complicato ecco complicato è complicato è complicato fare un altro webinar solo di domande solo di risposte alle domande no comunque veramente se avete potete scriverci ecco qui trovate i nostri riferimenti il mio è quello di Giuseppe se volete essere messi in contatto con con Michele e con in generale con il suo studio di progettazione scriveteci e poi vi metteremo in contatto direttamente con lui va bene io ringrazio tutti essendo l'ultimo webinar diciamo per per quest'anno io ci tenevo a ringraziare tutti tutte le persone che hanno collaborato per questo nuova avventura di quest'anno quindi ringrazio Giuseppe che ha presenziato per molti webinar insieme a me ringrazio Massimo Pagani ringrazio tutta l'area manager Riccardo Novolissi Roberto Liana ringrazio tutto il marketing che ci ha supportato con i contenuti quindi Marco Daniele ovviamente ringrazio anche Michele e niente io vi ci lasciamo qui avete a nostro a video il nostro canale Euroterm Italia visto che dobbiamo stare in casa per queste feste se volete approfittare andare a guardare tutti i contenuti che abbiamo creato in quest'anno ne saremo molto contenti anche perché diciamo che questa piccola community non tanto piccola che stiamo creando sta crescendo sempre di più quindi siamo molto contenti diciamo dei risultati che stiamo che stiamo ottenendo chiudiamola qui perché rimaniamo qui a parlare ringrazio tutti grazie Michele in bocca al lupo con il proseguimento dei lavori grazie Vittorio ciao a tutti buone feste ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti